Da domani l'Abruzzo sarà in zona arancione. Era una notizia nell'aria da qualche giorno. Le motivazioni che hanno portato a questo cambio di colore per l'Abruzzo? Sì, la valutazione del tavolo di monitoraggio del Ministero ha collocato la nostra regione in zona ragione perché abbiamo superato l'R con T all'1,5. Invece nella valutazione precedentemente eravamo all'1,29. Questo R con T è stabilito sia dai numeri dei positivi, quindi dai contagi, dai focolai, dai tracciamenti ma soprattutto anche dall'occupazione dei posti letto della nostra terapia intensiva. Noi nella nostra regione abbiamo raggiunto il 30% dei posti letto occupati in terapia intensiva e quindi questo è un segno di allarme, di preoccupazione, non tanto fino ad oggi ma soprattutto per quello che potrebbe esserci da domani in poi. Per cui queste misure restrittive si ritengono importanti, indispensabili per ridurre i contagi. Quando ci sarà il prossimo monitoraggio da parte del Ministero? Questa valutazione di questa zona arancione vale 15 giorni. Noi siamo monitorati ogni settimana in base ai 21 codici che loro vanno a riscontrare. Quello che diciamo come elemento importante della regione è che nonostante tutte queste difficoltà siamo a un buon livello del tracciamento e questo è un punto di forza. Bisogna migliorare ancora molto l'assistenza sul territorio ed è quello che in una rete stiamo organizzando continuamente dentro le nostre quattro arse perché purtroppo spesso e volentieri il problema è legato alla carenza del personale. C'è preoccupazione soprattutto per quello che sta accadendo a Sessore nel Terramano in provincia dell'Aquila? Sì, in questo momento, ad oggi, sono le due province che hanno un maggior numero di incidenze di positivi ma soprattutto perché ancora gli ospedali non erano ancora pronti, attrezzati perché come voi sapete è solo dopo l'8 ottobre che il Presidente ha avuto questa delega per la riorganizzazione di pronto soccorso. Per cui si sono create delle difficoltà nei pronto soccorso, ad esempio ad Avezzano abbiamo però immediatamente recuperato attraverso una tenso struttura che sorgerà proprio dinanzi all'ospedale ma rimodulando quelli che sono i posti letto in una rete Covid stiamo dando le giuste risposte. Dagli ospedali all'RSA invece qual è la situazione in queste strutture? Sì, uno dei motivi per cui abbiamo questo R-conti-atto è dettato proprio dei focolai che purtroppo ci sono stati nella nostra regione perché quando sorge un focolaio in una residenza per anziani è un focolaio che coinvolge un numero elevato di pazienti e ne abbiamo avuto sia a Avezzano, a Lanciano, in altre realtà e poi subito dopo c'è stata, dopo questo contagio, dopo questo focolaio c'è stata la presa in carico da parte della ALS attraverso un'assistenza, attraverso un commissariamento per poter gestire al meglio la situazione.